Prima di dare inizio ai lavori di consiglio, a nome dell'intero consiglio comunale e di tutti i consiglieri, con tante piacere do il benvenuto al nostro nuovo segretario, il posto con Francesco. Sono certo che sarà una collaborazione profonda e all'insegna del costante riempionamento dei lavori di questo consiglio. Benvenuto. Grazie.